Noi siamo la Nida, un gruppo di amici che da tanti anni dedica tutto il tempo libero per aiutare bimbi in difficoltà e lo facciamo mandando un messaggio abbastanza unico nel suo genere, che ci si può divertire e far del bene al tempo stesso. E questo lo facciamo andando vestiti da superiore e da principessa negli ospedali pediatrici di tutta Italia, facendo spettacoli, partite, e quest'anno ci siamo messi anche a cantare. Eh, perché noi siamo anche i due picche. Eh già, tu pensa che fino a sei mesi fa io non pensavo neanche di cantare sotto la doccia. E ora due milioni di persone. Tra l'altro ci scherziamo, ma tutto vogliamo farne nella vita meno che le pop star. Esatto, però ho visto che facendo un piccolo conto numerico, cosa hai in mano? Se ci hanno visto in due milioni, no? Eh, esatto. Io penso, pensa a due milioni di persone che si mettono le mani in tasca e hanno sta ferraglia che dà fastidio. Un euro e ventinove. La scaricano. La scaricano. Ma cosa vuoi fare con un euro e ventinove? Ma sai che con un euro e ventinove magari riesci a far alzare da una sedia a rotelle un bimbo disabile? Davvero? O a far parlare un bimbo che non ha mai parlato. O anche solo semplicemente a far fare sport a bimbi reduci da gravi malattie. Un euro e ventinove. E allora cosa dire? Cliccate sul link, acquistate la canzone e aiutateci ad aiutare. Più che altro vi promettiamo... ...che ne facciamo un'altra. C'era una volta un'antica cioccolateria di Torino in cui lavorava un vecchio lupo di mare, il Capitano Rosso. Franco, per gli amici, dopo aver navigato per tanti anni attraverso tutti i mari di cioccolato, da quello fondente al cioccolato al latte, quello bianco all'inesplorato cioccolato rosa, a un certo punto è deciso di riportare la sua nave fatta di cioccolato in porto e affidarla ai ragazzi della Nida. Tutto questo per caricarli a bordo e ripartire per un nuovo lungo ed emozionantissimo viaggio, in compagnia di tanti piccoli nuovi amici. Avete capito? Perché dovete mangiare il cioccolato? Nida? Sì. È davvero importante per voi. Il cioccolato buono... ...in tutti i sensi. ...in tutti i sensi. Grazie a tutti. 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 Non è necessario vestirsi da supereroi per essere supereroi. Per realizzare questo sogno servono muscoli, fondi, attrezzi e materiali. Aiutaci ad aiutare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Solo un po' vogliono da noi, tutti le voci degli angeli. Grazie a tutti. Dona, 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 qualcosa anche tu vai da lorra con tanto amor. Dona, 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 dona di cuore. Grazie a tutti. I ragazzi, dona, 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 dona. Dona, dona di cuore di cuore di cuore. Grazie a tutti.